Aveva in aula 38 dosi di marijuana nascoste tra le mutande e lo zainetto. Un anunno di appena 16 anni è stato sorpreso ieri mattina all'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Giarre dal blitz dei carabinieri della locale stazione compiuto in sinergia con i colleghi del nucleo Cinofili di Nicolosi alla presenza della dirigente scolastica Tiziana Danna. Un'attività già svolta in passato per tentare di arginare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga all'interno delle scuole. Affiutare la sostanza stupefacente, il labrador Ivan, cane antidroga in forza al reparto di Nicolosi. A quel punto il 16enne, residente a Mascali, è stato sottoposto ad accurata perquisizione dai militari dell'arma che hanno per l'appunto scovato la marijuana. Il giovanissimo è stato arrestato e condotto nel centro di prima accoglienza di Catania a disposizione del Tribunale per i minori. Altre 12 dosi sono state rinvenute sequestrate nei bagni utilizzati dagli studenti. Si tratta del secondo arresto per droga in pochi giorni operato dai carabinieri di Giarre. Un 41enne incensurato era stato sorpreso da una pattuglia in corso Europa mentre cedeva droga ad un acquirente riuscito a fuggire. Il pusher è stato invece bloccato e trovato in possesso di 20 grammi di marijuana di 55 euro ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo che ha solo piccoli precedenti di polizia alle spalle è stato arrestato e poi rimesso in libertà ieri pomeriggio.